Benvenuti a questo nuovo episodio delle pillole di Lele, oggi omaggiamo un grande della musica francese, avevo prodotto una pillola dedicata ai cantanti beat e oggi scelgo unicamente una puntata tutta dedicata a una sola figura francese che è Serge Gainsbourg, figura provocatrice e davvero rivoluzionaria, basta pensare alla sua «je t'aime moi non plus» con questi giochi sensuali, questi orgasmi che fecero molto scandalo all'epoca. Siamo nella seconda metà degli anni Sessanta, figura riconosciuta della musica francese, è una discografia importante, collaborazioni ovviamente con la moglie Jane Birkin ma anche con Brigitte Bardot, un uomo non bellissimo ma sicuramente affascinante. Oggi sono andato a recuperare questo album, un disco postum uscito negli anni 2000, questo «Les Anepsiques des Licks», sono incisioni che vedono anche «je t'aime moi non plus», quelle che si chiamano alternate takes, incise fra il 1966 e il 1971. Diciamo un piccolo bignami particolare per magari approcciarsi alla figura di questo grande cantante francese. Ci siete ancora? Beh, a questo punto come al solito io vi ricordo di iscrivervi, se non lo avete già fatto, ovviamente al canale della locomotiva così sarete aggiornati su tutti i prossimi appuntamenti con le pillole di Lere.